Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Benvenuto a una nuova puntata, abbiamo ospite Manuel Autemi. Chi è Manuel? Oh, non lo so neanche io esattamente, nel senso che sono un ibrido tra quello che è la parte di me iniziale, cioè quindi il mio cantautorato, portare in giro la mia musica, le prime produzioni, eccetera, e quello che è anche il ruolo attuale, cioè della discografia legata molto, legata alla mia casa discografica San Luca Sound, al nostro studio di registrazione che segue il mio socio fraterno Renato Droghetti, quindi diciamo che mi divido, mi divido fra la mia musica e lo studio e le produzioni degli altri artisti. E a questo punto parliamo intanto dell'ultimo lavoro che è appena uscito. Come nasce questo lavoro? Da cosa è tanto ispirazione? Da quando è nato e quando si è sviluppato? Guarda, allora, intanto Totoe è il mio quarto album in studio, è un disco che nasce a lungo termine, perché io ho iniziato l'ultimo album che avevo prodotto in studio e risaliva al 2014, si chiamava Koff. Da lì in poi ci sono successe una serie di circostanze, tra le quali ovviamente anche quella che è la nascita di mio figlio e anche quelle che sono le attività di produzione della San Luca Sound che sono andate sempre più crescendo. Quindi il tempo fisico per mettermi io in studio a produrre un progetto era meno rispetto a una volta. Quindi questo disco nasce comunque ovviamente sempre dalla mia scrittura e dagli spunti che mio figlio mi ha regalato in questi anni. E' ovvio che io prima di farlo uscire ho voluto concludere come a me piace fare, nel senso che volevo che tutti i brani fossero esattamente come li pensavo io. Quindi devo dire che questo è un disco più mio, un disco dove ho suonato tanto, dove ho inciso molte chitarre sia acustiche che elettriche, dove ho programmato anche dei suoni, quindi sicuramente è un disco più mio rispetto a quelli passati dove magari c'erano altri produttori che poi mettevano le mani quasi in tutto. Però è anche un album che è stato un po' sofferto perché poi ci siamo dovuti fermare, nel senso che c'è stato il covid, quindi abbiamo avuto, io ero pronto, volendo, due anni fa, poi ho detto ma no, aspettiamo, tanto non ha senso uscire. Quindi insomma, un disco che spero il prossimo che sia meno difficile, meno complicato. Sì, però devo dire anche che delle volte ci penso, non lo so, se nel mio futuro farò proprio un album intero, nuovo, completo, oppure mi fermerò a produrre dei concept di due o tre brani, delle idee più facili. Perché comunque, sai, da indipendenti fare dei dischi, soprattutto alla mia età, che sono quasi 47, hanno, non hanno, diciamo che ci vuole una logica, ci vuole, devi fare un progetto perché c'è quell'obiettivo. Quindi io scrivo tanto, spesso ho in mano la chitarra, spesso mi appoggio sulla mia tastiera, però, però ripeto, devo, devo studiare quello che è il futuro. Per adesso, per me il futuro è oggi, il futuro è questo Totoe, questo disco, che tra l'altro Totoe in realtà è un titolo da spiegare, uno dei miei dischi, uno dei, diciamo, tre su quattro dischi che ha il titolo da spiegare, che è molto semplice. Quando mio figlio era piccolo, non sapeva dire telefono, diceva papà, mamma, Totoe, quando suonava il telefono, quindi è lì è rimasta la parola. Ora c'è questo singolo che si chiama Strano, è un brano a cui tengo molto, che mi rappresenta molto e che comunque adesso lo stiamo ancora portando avanti. È stato fatto un videoclip prodotto da Rodolfo Rodman Nara, con questa pittrizia all'interno, insomma, Alison Jeremia, molto brava. E poi adesso, in primavera, sicuramente ci sarà un secondo singolo, sicuramente, perché dopo un po' di mesi, no? Devi buttare fuori un'altra canzone del disco. Io volevo parlare della copertina, ma il copertino me l'hai accennato. Come nasceva questa copertina? A copertina mi sono fatto fare un Lego un po' a mie somiglianze, un po' a mie vaghe, no, c'è una, mi ho preso una foto, l'ho mandata a questo sito che faceva appunto questi Lego, che era così, assomigliassero un po' alla foto. Devo dire che ci sono gli usciti, siccome è molto carino, e poi c'è anche un legame, no? Sai, i bambini, i Lego, i Playmobil, quindi era anche un po' fare una copertina che potesse piacere anche a lui. Infatti, l'omino dei Lego ci gioca ogni tanto. Nella realizzazione dei brani, nascono prima le parole, nasce prima la musica, oppure c'è un riff, c'è un beat che ti viene in mente e da lì poi la canzone nasce spontaneamente? È una giusta osservazione, è una bella domanda che spesso non ha, nel mio caso è una risposta, perché io prendo sempre in mano la chitarra e dalla chitarra faccio dei giri, poi butto giù delle parole, talvolta così, senza senso, ma delle volte magari con dei richiami che poi mantengo, no? Quindi prima a me nasce la musica, quasi sempre, e successivamente mi collego e scrivo le parole, che di solito scrivo quando ho qualche cosa da dire all'interno di quella melodia, ecco, generalmente. E' capitato però che nascesse un po' tutti insieme, qualche canzone nata, parole e musica di getto, e poi ovviamente il testo si affina, la melodia anche, si cercano poi i dettagli, ecco. Quando... non è vero che una canzone non debba essere perfezionata, cioè nel senso che melodia, accordi, testo... Cioè è un lavoro che secondo me, invece, può essere fatto anche un po' più in maniera schematica, se lavoriamo in maniera così, ecco, tecnica. Però ovviamente prima c'è l'aspetto emozionale, artistico, no? Quello che è poi... quello che viene fuori. Nell'utilizzo delle parole, nel linguaggio, spesso ti capita di utilizzare tante parole per poter descrivere oppure, come nell'inglese, sia un po' più sintetici per riuscire a reesprimere ciò che si vuole in modo più sintetico, oppure è meglio scrivere tante parole? No, io su delle due preferisco poche parole, però nel mio linguaggio è un linguaggio che può sembrare anche banale, perché io scrivo così come sono, cioè in maniera molto semplice. Le mie canzoni non sono particolarmente articolate, anche quando mi esprimo cerco sempre di esprimermi un po' in maniera semplice, scolastica, senza cercare per forza virtuosismi nel vocabolario e quindi ho sempre apprezzato, no? Le canzoni anche di Vasco Rossi nei testi, perché comunque lui ti dice una parola e quella parola ti arriva, no? È una parola diretta, è una frase delle volte, no? diretta e anche lì le parole non sempre hanno, io in questi anni ho avuto la fortuna di collaborare e di conoscere tanti produttori, tanti musicisti, tanti cantanti famosi e alcuni di loro mi hanno sempre detto che le parole devono essere al posto giusto e come insegna la scuola di Vasco, a me molto vicina, anche l'interpretazione è importante, perché c'era un produttore, posso fare il nome, Roberto Casini, autore e compositore di tante canzoni di Vasco Rossi, che tra l'altro in questo momento è in studio da noi, che stanno affinando delle produzioni sue, che quindi ce l'abbiamo qui con noi negli studi. e per lui sarà un piacere poterlo ascoltare in futuro. Eh, glielo facciamo sentire, glielo facciamo sentire. Roberto, per esempio, faceva questo esempio, secondo me è molto interessante, perché se io ti dico, mi dai il tuo numero, no? È diverso che ti dico, mi dai il tuo numero? Cioè, mi dai il tuo numero sembra quasi un approccio, no? Come dire, ci stai provando. Invece, mi dai il tuo numero? È come dire, dai, me lo segno che serve per altre cose, capito? Anche il modo in cui dici una cosa, e così anche nelle canzoni. Cioè, una canzone, il testo è una canzone, bisogna un po' interpretarlo, perché se no, dici una parola fredda, ma che non ha quel valore. Quindi, insomma, lo vedo così io. A questo punto ti faccio una domanda un po' più alla Marzullo. Le canzoni sono un spezzato di vita o un'immagine di vita ideale? No, no, per me è uno spezzato di vita. Le canzoni per me sono delle cartoline, sono dei momenti che ho vissuto e che ho riportato, che ho fotografato in quel momento. Cioè, io mi ricordo ogni canzone che comunque ho scritto ha un significato e io mi ricordo bene. Poi magari non arriva quel messaggio lì, però io ogni canzone che ho scritto mi ricordo bene perché l'ho scritta come venuta fuori. Poi ovviamente il tempo fa dimenticare, no? Quindi dopo magari la stessa canzone cambia un po' il significato, eccetera. Però io in alcune canzoni anche all'inizio mi ricordo il motivo per cui l'ho scritta, capito? Quindi assolutamente per me sono delle fotografie di vita vissuta che sto vivendo e che quindi fermo in una canzone. Tu mi hai detto, ho fatto tante collaborazioni, effettivamente hai fatto una marea di collaborazioni. Quali sono quelle, perché sono tantissime, quali sono quelle che in realtà poi nel tempo ti sei accorso che ti hanno fatto crescere anche artisticamente oppure comunque ti hanno fatto crescere anche come persona perché in quel momento non ci hai pensato ma poi nel tempo l'hai rivalutata quella collaborazione perché ti ha reso più di quello che pensavi? Ma guarda, allora intanto ovviamente io ho collaborato sia come catautore ma ho collaborato tante cose soprattutto anche come produttore o comunque diciamo titolare della casa discografica San Luca Sound perché poi produzione ne fa renato. Quello che posso dire è che chiunque ti dà qualcosa, dal ragazzino giovane di 13-14 anni che ha una visione che delle volte aiuta molto a rimanere freschi anche nell'ascoltare musica, aiuta tanto ascoltare questi ragazzi così giovani. Così come ovviamente come ti dicevo prima il Roberto Casini che ha scritto l'amore l'amore, Gabri, signorita, colpa del whisky, va bene va bene così, insomma anche lui è una di quelle persone che ti lascia tanto. Ma ripeto si impara da chiunque. Se invece andiamo nel mio personale ovvio che io ho una serie di artisti che mi hanno aiutato a crescere, che mi hanno cambiato anche certi certi atteggiamenti sul palco. Per esempio io sono stato supporter per un anno di Gatto Panceri e Gatto Panceri è uno che mi ha insegnato non so per esempio dire al fonico se siamo sul palco e magari non sento la mia voce così è su, oppure se è troppo alta così è giù. La base così è su, così è giù. C'è piccole sfumature che ti hanno arricchito. Poi con Gatto che mi ha sistemato alcune canzoni del primo album io ho visto proprio il modo, l'approccio nel testo, cioè la voglia di non stravolgere ma di inserire. Quindi lui è stato per me un grandissimo maestro. Poi ce ne sono tanti, sono stato sempre supporter anche per un anno di Vana Spagna. Con lei ho imparato la disciplina di come si va su un palco e di come la parte antecedente al concerto richieda comunque un impegno richieda comunque una preparazione, no? Poi posso citare Isca Raminarini la quale mi ha insegnato anche lì l'atteggiamento di come approcciarsi a una canzone, come di interpretarla, il sorriso, no? Meno sorridente. Ma veramente tanti, anche gli stessi produttori di Nome Lotti, lo stesso Renato, il mio socio, mi ha insegnato tantissimo anche nei suoni. Insomma io cerco di imparare da tutti e non ho mai sottovalutato nessuno e poi ho detto magari come dicevi tu prima. Sai che invece pensandoci, cioè io cerco sempre fin da subito dal ragazzino di 14 anni al Dodi Battaglia che viene in studio da noi, a Ricky Portera, da chiunque di crescere. Ma lo faccio anche nell'attività. Franz Campi, per Nome, oltre a un grandissimo musicista e cantautore, è un grandissimo organizzatore di eventi. A lui devo anche la, come dire, la crescita nell'altra parte del mio lavoro, ecco, quindi quella più organizzativa, di coordinamento degli artisti tra lo studio e la promozione, insomma, così. E a questo punto io vi rendo un po' sull'emozionale, il fatto del, quando si sale sul palco, dalla prima volta che sei salito sul palco, ad oggi, quando in cui sali sul palco alcuni miei colleghi hanno detto, ma chi me lo fa fare? Poi salendo sul palco, quando in cui si apre quella platea e c'è la quarta platea avanti che inizialmente è silenziosa, poi ci sente quel brusio, ma poi si sente quell'energia che dal palco sale e ti arriva a te con un'ondata. A volte il palco, la platea non si vede perché a volte c'è le luci, c'è rumori, c'è confusione, però senti quell'energia che arriva come un'onda e tu quale sensazione però? Ancora proprio quella sensazione e poi... Sì, sì. Guarda, all'inizio ero molto agitato, io ho passato un periodo che avevo paura di andare sul palco, no? Ma avevo paura di sbagliare, avevo paura di dimenticarmi magari una parola, avevo paura di stonare, quindi all'inizio era un po' così, penso che lo sia un po' per tutti, no? Poi guarda, con il tempo ho imparato a capire che quando sali su un palco, comunque a prescindere da chi hai davanti, sei davanti a della gente che è lì perché comunque se sei in un teatro, se sei comunque davanti a un posto dove c'è la gente lì seduta apposta per vedere quel concerto e quegli artisti che saliranno su quel palco, tu sei lì per portare comunque un momento di gioia e distrarre chi hai davanti, no? Che è andato fuori per fare questo, cioè che è uscita di casa per togliersi dai pensieri quotidiani, per togliersi... Quindi tu li devi trasmettere, devi regalare loro in quel momento lì qualcosa che li permetta di stare bene, hai capito? Io lo vedo così, poi li puoi fare emozionare, li puoi fare piangere, li puoi far ridere, li puoi fare il cabaret, però loro sono usciti per togliersi dalla routine. Quindi se tu hai un approccio in questa maniera del palco, ovviamente ti cambiano, diciamo adesso vado lì sopra così vado a dare un po' di... vado a portare e nello stesso tempo ti responsabilizza perché comunque sai che insomma ti trovi su un palco perché hai davanti... La musica è fatta per questo, non siamo mica dei dottori che purtroppo devono operare qualcuno oppure devono, capito, dei dentisti che ti devono trappanare il dente, cioè perché tu vai lì perché hai bisogno di andare lì. No, noi portiamo un messaggio diverso, un messaggio che può essere di divertimento, di piacere, di emozioni, quindi il nostro è un lavoro completamente differente e che bisogna sapere che non siamo andando in banca, non siamo l'agenzia delle entrate che viene a casa a pignorare di qualcosa, cioè capito? Il nostro deve essere un approccio positivo, quindi bisogna andare sul palco per forza in maniera differente, ecco. E quando scendi al palco, se incontri le persone, ti pongono delle domande, a volte ti accorgi che sono così emozionati che la domanda in realtà non è stata ben chiara, però tu riesci a dargli una risposta tale che vedendo il loro viso li hai resi felici perché in fondo gli hai detto qualcosa che probabilmente loro pensavano ma non avevano il coraggio neanche di dirti. Ma sì, intanto vabbè, io faccio sempre presente che la mia è una posizione piccola, nel senso che io ho avuto l'occasione di fare anche uno stadio con ventimila persone per carità, però il nostro approccio è sempre teatro, in contesti dove ci sono più artisti, è capitato ovviamente di fare dei concerti anche solo miei, però ecco è sempre di gruppo tendenzialmente. È ovvio che a me piace sentire dopo cosa ne pensano, se si è piaciuto ed è ovviamente sempre un'emozione, ma a me è capitato anche di ovviamente di fare qualche autografo, un po' mi imbarazza perché dico, boh, non so se non mi sento così all'altezza, no? Nel senso che non so, però vabbè, qualche volta è capitato e ovviamente ti fa piacere che quella persona voglia un ricordo di te e questo solo il live te lo può dare, solo il live, perché tutto quello che è prima è sempre più freddo, oggi con i social, con questi store digitali, il pubblico è distratto, no? Invece nel concerto sono lì apposta per vedere te e tutti quelli che sono presenti in quell'evento e cambiano le cose. Allora, Dando mi ha detto che la casa è discografica, l'etichetta è discografica e a questo punto ti pongo un quesito più che a livello discografico. Oggi i social, cioè più che altro gli Spotify e tutti questi altri sistemi in digitale, non è che possono essere in realtà più che vetrina un danno per l'artista, ma in cui ascolto un brano, poi me lo perdo e ho 50.000 brani successivi. Verissimo, sono pienamente d'accordo con te. Il danno non è tanto per la canzone in sé, perché tanto te fruisci di quel brano. Secondo me il danno è che ci siamo disabituati a volere un oggetto. Cioè, nel senso, una volta comperavi il disco, no? I cd, il vinile, la cassetta, e dentro c'era un libretto che andavi a leggere. Nel mio caso tanti progetti li ho fatti prendendo, non so, il disco di zucchero, e c'era il produttore di zucchero, e allora lo chiamavo. Il disco del povero Grande Mango c'era Lorenzo Castaniga, fonico, e ora dopo lo contatti per fare qualcosa insieme. Leggevi i testi, vedevi dove era stato prodotto, vedevi i musicisti, no? Cioè, a me piaceva questo. Oggi non è più così. Io per primo sono abbonato con un iPhone a Apple Music, scarico le canzoni, poi se voglio un po' approfondire, perché a me piace ovviamente andare a vedere chi ha prodotto, fatto e brigato, devo fare delle ricerche extra su Wikipedia o quello che è. Quindi, purtroppo, hai detto una cosa che condivido. Questo sistema ci ha reso un po' più superficiali anche nel mondo della musica. è inevitabile. Per parte, per controparte, io ogni tanto controllo gli ascolti dei nostri artisti, controllo anche i miei, ovviamente, e magari non ti aspetteresti mai che in Brasile qualcuno si è preso briga di ascoltare una tua canzone. Perché magari vedi dove è stata ascoltata e vedi che magari è stata ascoltata in Brasile, capito? Quindi, questo era il rovescio della medaglia, che secondo me non riesce a colmare l'altro aspetto. Però va bene, è così. Se dovessi descrivermi qualche aneddoto particolare o divertente o faticoso della realizzazione di questo disco, c'è qualche momento in cui ti viene in mente? Un aneddoto particolare o divertente di questo disco? Non è facile. Perché, come ti dicevo prima, è stato un disco un po' sofferto. Abbiamo dovuto fare anche delle scelte di produzione. Quindi, ecco, è proprio divertente questo disco. Nella produzione, secondo me, non lo è stato. Ovviamente, quando però siamo in studio, che riesco ad avere un po' di tempo per produrre le mie canzoni, in questo caso questo disco, ovviamente il divertimento nasce nello stare insieme al mio socio Renato, nell'esperimentare, nel ridere, nel scherzare. Io scappo via. Quando si mette a fare il cosiddetto composite della voce, perché una volta mi piaceva stare lì, ascoltare, fare. Adesso non ne ho voglia, anche perché avrò nel mentere. Dopo mi rimango mille telefonate a cui rispondere. Insomma, quindi, un aneddoto vero e proprio di questo disco, che mi faccia ridere, faccio fatica a trovartelo, ecco. È stato un disco, comunque, che ha portato i suoi frutti, perché secondo me è un disco... per il mio mondo, eh, ti paro, mica voglio essere presuntuoso, però per come volevo io sono contento di questo disco. Abbiamo capito che l'hai già portato alcuni brani alle portiere al vivo, con lo spettacolo insieme a Franz Gamby. Qual è stata l'immagine visiva del pubblico davanti, scorgendo lo sguardo sopra la chitarra? Che sensazione hai avuto vedendo le facce delle persone? Sì, in quel contesto lì non avevo la chitarra con me, ero solo io col microfono, c'era Renato alla tastiera, poi è uscita fuori la ragazza Alison, che aveva fatto il quadro, che poi era collegata al video, eccetera. Quindi, quando non ho la chitarra, paradossalmente riesco a vedere anche meglio, perché magari mi abbasso, no? Beh, un po' il mio pubblico, perché il pubblico di Franz, poi avevo invitato tanta gente, no? Degli amici, quindi, insomma, ci sono delle persone alle quali mi piace chiedere conferma. Dico, allora, com'è andata? Ti sono piaciute le canzoni nuove? È ovvio che quando, sai, il primo giorno che esce il disco, ancora la gente non ha quelli che ti seguono, ovviamente. Non è che magari hanno ascoltato più volte il disco e quindi non hai ancora... È una cosa nuova, no? Come quando sei a Sanremo, che nel paradosso, ascolti la prima volta la canzone, però non la sai, non la puoi cantare perché non la sai, o comunque non hai avuto modo già di far per entrare nella testa. Però è stato bello alla fine, perché poi alla fine mi sono venuto a fare dei complimenti, anche magari persone che non conoscevo, e questa è stata la soddisfazione più grossa. E a questo punto mi puoi raccontare quando nasce l'idea della casa discografica, della produzione? E soprattutto, ci puoi raccontare un pochettino della casa discografica a questo punto? Assolutamente sì, San Luca Sound nasce nel 2008, perché? Perché io, quell'anno lì, avevo bisogno di... volevo mettermi in proprio, tra virgolette, nello stanco, no, di essere appoggiato ad altre case discografiche, e ho fondato la San Luca Sound insieme a Renato, con il quale ha detto, ma apriamo uno studio, ma dai, apriamo uno studio, avevamo lo spazio, quindi ho detto, facciamo tutto insieme, la casa discografica è... ma è nata, perché? Perché io, quell'anno lì, dovevo provare a fare Sanremo Giovani, perché nel 2008 è nata, e ci voleva la casa discografica, e nel 2009 ci sarebbe stato Sanremo Giovani. Beh, siamo riusciti attraverso, erano tre categorie, un anno particolare, e comunque non sto a descrivertelo tutto, ma siamo riusciti a arrivare tra i dieci finalisti di Sanremo Giovani, che erano, in realtà, era la parte messa sul web, ma io ho vissuto tutto il periodo sul palco dell'Ariston, perché poi cantava il primo nella categoria, però con Oris ci fece alzare in piedi il giovedì sera, eccetera, per leggere che avrebbe vinto, ma ci siamo partiti in 800, sono andato a Roma, ne hanno presi 200, siamo rimasti... no, ne hanno presi 200, poi ne hanno presi 90, io ero tra i 90, siamo rimasti questi 90, siamo stati messi in internet, e successivamente c'è stata una bella emozione. Quindi l'esorto della San Luca Sound è stato quello, incredibile, no? Ci siamo partiti subito e forte, boom, con Sanremo, dal punto che nessuno ci conosceva, pensavano che fossimo di calabresi, sai che c'è San Luca in Calabria, no? E invece no, noi siamo delle colline bolognesi, e qui dietro, là in alto, là in alto, c'è il santuario di San Luca. Se avessimo dimenticato qualcosa in particolare di tutto questo racconto musicale, che cosa avremmo dimenticato? Se avessimo dimenticato qualcosa, abbiamo parlato molto, io pensavo durasse meno, quindi anzi, ti ringrazio, perché mi fa piacere a me parlare, raccontare, ricordare, perché come ti dicevo prima, sono tutte cartoline, no? Sono tutte come delle foto che te hai nella mente. Forse, non lo so, non mi ero ripromesso che non avrei, non ci sarei più tornato sopra, però ogni tanto vale la pena ricordare che io faccio questo mestiere perché ho avuto la fortuna nel 1999 di incontrare Vasco Rossi, con cui è nata, mi sento di dire, un'amicizia, ecco, chiamiamola così, che poi mi ha portato a conoscere tutto lo staff all'interno della sua struttura, e da lì è nato tutto, perché Renato Droghetti faceva parte della band di Piatucitto, la quale poi prese una mia canzone, con cui ha aperto la data di Ancona prima di Vasco nel tour Stupido Hotel, insomma, una catena, la base di partenza. Ovviamente prima io ho fatto tante cose, c'era già stato Leandro Barsotti, che è un cantautore padovano, che adesso è anche un grande giornalista, che è stato forse uno dei primi a credere in me, insomma, c'erano già state delle cose, però devo dire la verità, senza che lui lo sappia, sono anni che non lo vedo, quindi non so, ci giri intorno ma lui non lo vedo, però senza che lui lo sappia, se non ci fosse stato lui, forse faremmo un altro mestiere. Quindi mannaggia lui! Per fortuna lui! No, non lo so. Noi siamo contenti che tu ci sei. Grazie. Sì, tu lo sai che io non sapevo, ad Ascoli ho avuto il piacere di aprire un concerto a Riccardo Fogli, fatto il supporto per Riccardo Fogli. Io ringrazio te, Pietro, e un saluto veramente a tutti coloro che hanno avuto la pazienza e anche la voglia di ascoltare le mie parole. Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!